Ma io voglio capire una cosa, una volta ucciso questo cavalliere e proseguendo su questo ponte, la porta qua è sigillata e quindi mi sono domandato cosa sono le rune maggiori e quando andate qua vicino e cliccate rune maggiore e quindi vi esce rune maggiori insufficienti. Quindi ragazzi non vi basta che uccidere Godric e Radhan, ok? Non ci vuole niente, quindi per Godric una volta ucciso andate qua, ponte fortificato, proseguite per tutto questo ponte dove ci sono anche quei giganti maledetti, qui proprio qua c'è un portale, prendete questo portale e vi porterà in questo punto dove sta la torre divina di Sepolcrate, poi proseguite, prendetela quella ascensore e guardate un po' dove vi porterà, qua sopra, torre divina di Sepolcrate, proseguite da questa parte e qui troverete la vostra prima runa maggiore, ok? E quindi mettiamola nel sacco e teniamocela. Ora un altro boss da uccidere della storia è il famosissimo Radhan. Radhan non è altro che un tizio che cammina nel deserto su quel bellissimo pony, un cavallo così piccolo che trasporta un uomo di 30 tonnellate. Camera sulla piazza, non so se avete sbloccato questa terra e avete proseguito fin qua sotto, camera sulla piazza. Una volta arrivati in questo castello basta proseguire da questa parte, incontrerete due boss se dovete ucciderli oppure no, avanzate qui dove sta la festa, se c'era la festa, c'era il lupo che potevi parlarci pure, lui ti diceva un paio di cose, una storiella ti raccontava. Lassopra invece c'era l'anziano che ti parlava e ti raccontava del, ma si chiama, di Radhan, qua sopra. E un'altra volta la storiella, cioè dopo la storiella, proseguite da questa parte, si apriranno queste porte, voi avanzate, entrate in questa chiesa, da questa parte. Usate l'ascensore che sta qua sotto, basta tirare la leva, oppure se sta già l'ascensore qua basta andare su quel pulsante che trovate là sopra. Ok, tiro la leva, vi faccio vedere che dovete fare, mazza sono un figurone così, sotto si vede tutto, eccoci qua, e scendiamo. E siamo arrivati, ecco, prendete questo teletrasporto qua, e ragazzi fortunatamente quelli di Elden Ring per fortuna ci hanno messo una tozzina di bot da evocare, quindi tantissimi soldati, tantissimi guerrieri fortissimi, e quindi sia i bot che noi abbiamo, cioè io ho affrontato Radhan con la magia e loro faccia a faccia con i cazzotti, quindi è stato semplicissimo, e mi hanno dato 70.000 rune, e è la runa maggiore. Una volta ho avuto questa runa maggiore, più quella di Godric, l'avete fatto, ritornate lì alla capitale e entrate là dentro. Quindi ragazzi, spero tanto che questo video vi è stato utilissimo, lo spero tanto, e iscrivetevi al canale, lasciate like, e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial.